Eleonora c'è posta per te, il messaggio dopo la puntata, non ci è stata data l'opportunità di dire tutto che è posta per te, la figlia che ha chiuso la busta ai genitori, Eleonora ha scritto un lungo messaggio su Facebook ha fatto scalpore a che è posta per te la storia di Eleonora, una ragazza che insieme al marito Cristian ha chiuso la busta ai genitori e alla sorella nonostante le insistenze di Maria De Filippi, la giovane non ha voluto riabbracciare la sua famiglia una situazione che ha indignato il pubblico, tanto che sui social networking tantissimi hanno criticato il comportamento di Eleonora tanti, troppi commenti negativi, ai quali la romana ha voluto rispondere con un lungo post su Facebook Nel suo messaggio Eleonora ha rivelato di non aver fatto pace con i suoi parenti dopo la puntata e che durante la registrazione non le è stata data l'opportunità di spiegare la sua versione dei fatti Purtroppo in tv non ci è stata data l'opportunità di dire tutto e siamo passati per quelli che non siamo affatto sapere Eleonora, che ha chiarito di non essere minimamente toccata dagli insulti della gente La moglie di Cristian è più che mai convinta della sua decisione e, come ribadito a Maria De Filippi, è felice senza la sua famiglia Di seguito il lungo post che Eleonora ha scritto su Facebook subito dopo la puntata di Che posta per te Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti